Allora, aspettate, ci giocheremo questi playoff bene, sì o no? Io dico solo una cosa, altri 360 minuti per il sogno C1 e buona domenica a tutti. E tu invece? Io dico che potevamo cavarcela molto meglio se avessimo sfruttato le possibilità precedenti, però siamo stesso stato bravi oggi. Grazie. Ecco l'altro tifoso, dai, allora, cosa ti dice? Niente, secondi, è andata bene così. Grazie.